Non ti sento. Siamo in diretta ma non ci sentiamo. Cominci a sentirti. Vediamo se sento. Ora ti sento. Ciao Nando. Come si vede? Sono in ombra, va bene? Sei un po' in ombra. C'è già Luigi sotto, lo aggiungo così cominciate. Accendi un'altra luce l'ultima volta, alzati e accendi un'altra luce che stai al buio proprio. Aspetta, ecco qua. Brava, va benissimo. Io come sto invece? Siamo tutti bene. Amici, la prova l'abbiamo fatta. Io tolgo il disturbo, a voi la scena. Aspetta, aspetta, aspetta. Aspetta ancora. Mettetevi ancora meglio. Esatto, sistemiamoci. Facciamo in prova a due come stiamo? Ah, in due, vero, vero. Sì, perché... Ecco qua, sono centrata anche io così. Sono centrata, vero? Sì, tu sei centratissima, so io che non... Sì, ma è tutto il contrario. Se ti sposti a sinistra e a destra e viceversa. No, è che non capisco perché praticamente... Però dovrei essere... Ecco, il giolo è perfetto. Ora va bene. Perfetto. Va bene, ci siamo. Ora va benissimo. Ok, ci siamo. Com'è andato? Sei tornato da Roma? Sì, sono tornato e praticamente adesso... Oggi è stata una giornata tremenda. Ho appena finito di fare l'altro collegamento. Però poi stamattina ho dovuto, come dire, partecipare a una diretta che c'è stata da Caserta. Quindi sono arrivato pelo pelo che stava finendo. Vi interrompo per dirvi che siete in diretta. Io ho già lanciato la diretta e non è privata. Va bene, va bene, va bene. Quindi io riesco per lasciarvi alla diretta, quindi vi conviene salutare un po'. Permesso. Va bene. Allora salutiamo gli amici. Buonasera a tutti dal sito Amici.la Noia. Siamo in diretta con il giornalista Luigi Ferraiolo, la regia a cura di Nando Taccogna, che ringraziamo in anticipo rispetto poi ai saluti e ai ringraziamenti finali. Perché questa diretta? Perché Luigi Ferraiolo? Perché è un periodo in cui passano dal web, passano sui social, tantissime notizie più o meno false e più o meno attendibili sul coronavirus, sulla malattia da coronavirus, sugli sviluppi di questa malattia, sulle ricerche in corso sulla terapia e sul vaccino. E quindi mi sono posta il problema di quanto è importante l'informazione e di quanto deve essere attendibile, perché un ancora è una certezza per il cittadino comune, per il lettore. E' accolto l'invito molto ma molto gentilmente il nostro amico casertano Luigi Ferraiolo e abbiamo pensato di fare un breve scursus, partendo dall'omicidio di Don Peffediana, che fu la prima notizia, la prima grande notizia, la prima grande fake news promossa dai giornali casertani sull'omicidio di Don Peffediana, fino poi ad arrivare a quella che è l'informazione e le fake news sul coronavirus. Partiamo allora da Don Peffediana, erano in una sera, le 7.20 di sera, a Casal di Principe, nella chiesa... Erano le 7.20 di mattina, erano le 7.20 di mattina, sì, erano le 7.20 di mattina. Allora, racconta tu di Don Peffediana. Sì, no, è suggestiva. Allora, innanzitutto grazie per l'invito, grazie per l'organizzazione, grazie anche a Nando che non vediamo ma che è in regia e grazie a tutti coloro che ci ascoltano dal canale che, come dire, spesso anima le giornate dei casertani, soprattutto in questo periodo in cui non si poteva uscire e si era costretti alla clausura. Alle 7.25 di mattina del 19 marzo del 1994 Don Peffediana fu ucciso nella sua parrocchia di San Nicola di Bari al Castale di Principe. era un giovane parroco, 35enne, molto attivo, molto attento, molto impegnato nel sociale. È suggestiva l'idea che tu hai proposto a chi ci sta ascoltando, Enza, perché è vero, non tanto l'uccisione in sé, l'omicidio, ma tutto ciò che ne venne dall'omicidio su Don Peppe è stata praticamente la prima grande manipolazione informativa che si è verificata in provincia di Caserta, in Grande Siria. La possiamo definire una fake news, tra virgolette, antelitteram. Perché? Perché come Sciascia ci ha insegnato con i suoi stupendi romanzi, con i suoi racconti, e come poi abbiamo capito dall'uccisione di Falcone, di Borsellino e da tanta letteratura e saggistica su Cosa Nostra, ogni volta che in Sicilia si ammazzava qualcuno che era contro la mafia, l'uccisione non era mai a causa della mafia. La stessa cosa è successo con Peppino Impastato, il cui anniversario è capitato giusto l'altro giorno. Cioè non era mai per la mafia. Era sempre a causa di Fimmine, a causa di Yuko, del gioco, a causa di qualsiasi altra cosa. Era un'ammazzatina, non era mai un omicidio. E perché questo? Perché anche nella società, nella cultura corrente, bisognava sminuire il valore di quella persona, l'impegno delle sue parole, il peso delle sue parole. E questo lo si voleva fare a Casal di Principe anche con Don Peppe Diana. E quindi attraverso i quotidiani del luogo, in particolare un quotidiano che in qualche modo era legato al clan, cioè si provò a sminuire il peso, una strategia architettata dagli avvocati, architettata dal clan, si provò a sminuire il peso delle parole di Don Peppe Diana e del suo omicidio. Però io credo che la gente di Casal di Principe subito abbia fatto la sua scelta a quel tempo e abbia deciso subito per la veridicità, per l'impegno, per il sangue sparso non inutilmente da Don Peppe Diana. Perché? Faccio una ricostruzione immediatamente dell'omicidio. Alle 7.25 di mattina cinque colpi di pistola freddano, ammazzano definitivamente Don Peppe Diana. Dopo un'ora arriva l'attuale procuratore nazionale antimafia, Federico Caffiero de Rao, che allora era sostituto procuratore della DDA di Napoli, il quale seguiva proprio i Casalesi, seguiva Gomorra, e racconta nelle varie interviste che ha rilasciato nel corso degli anni che c'erano i preti, c'era la polizia, c'erano i carabinieri e pochissima gente. Cioè lui rimase impressionato dalla freddezza del paese nei confronti dell'assassino di un prete e disse, pensò tra se la Gomorra, la Camorra, allora si chiamava la Camorra, ha già vinto. Dopo due giorni, il primo giorno di primavera, il 21 marzo del 1994, ci fu il funerale di Don Peppe Diana. Ecco, quel giorno, con l'uccisione di Don Peppe, quello che si pensava di aver chiuso, quello che si pensava di aver rimandato nelle fogne, cioè le parole contro Gomorra di Don Peppe, esplosero in mano ai camorristi. Perché? Perché c'erano più di ventimila persone a quel funerale, non c'era mai stata una folla così grande a Casal di Principe, lungo le strade, in corteo, fino al cemitero per un funerale, e c'erano centinaia, migliaia di lenzuola bianca estese ai balconi, alle finestre di Casale, di Casapisenna, di San Cipriano d'Aversa. Era ciò che non ti aspettavi, ciò che non immaginavi, una rivoluzione vera che cominciava in maniera robuante, fragorosa, con la solidarietà della gente per quel morto ammazzato indegnamente all'interno di una chiesa, l'unico prete mai ammazzato in una chiesa in Italia, Don Puglisi è stato ammazzato fuori dalla chiesa, l'unico sfregio mai compiuto a una fede intera e alla comunità di un paese, perché fu ammazzato il prete del paese mentre si accingeva a dir messa, e lo sfregio anche alla persona perché fu ammazzato il giorno del suono mastico. E tutto questo perché? Perché aveva aperto le porte della sua chiesa, era andato tra la gente, aveva accolto le persone e portava, sottraeva i giovani al clan. Luigi, diciamo che l'omicidio di Don Pettidiana può aver dato una spinta forte allo Stato e quindi anche l'inizio di Spartacus, tutta l'indagine, perché fino a quel momento diciamo che non c'erano mai state indagini così diffuse su tutto il territorio, su quel territorio che è chiamato il cratere d'Europa, il triangolo della morte, oggi la terra dei fuochi. Quindi in qualche modo si può dire che l'omicidio di Diana ha dato una spinta all'indagine, alla procura per approfondire i legami tra la camorra e il territorio, la camorra e l'economia del territorio. Allora, a quell'epoca le indagini erano già in corso perché c'erano già i primi pentiti, ma se non ci fosse stato l'omicidio di Dondiana, il clan dei Casalisi, Gomorra, avrebbe continuato a prosperare, come aveva fatto fino ad allora in totale silenzio, senza avere in pratica problemi. Noi dobbiamo, per capire che cos'era il clan dei Casalisi, che cos'è Gomorra, perché è nato tutto lì, è nato in questo triangolo, come tu hai detto bene, il triangolo della morte, fu definito così dall'ONU perché era il luogo in Europa e nel mondo dove c'era la più alta percentuale di morti ammazzati. Ecco, che cos'era? Le testimonianze, ci sono testimoni viventi che ancora oggi, io li ho ascoltati nel mio documentario, Don Peppe Diana, Martire di Scatto, che ti raccontano che se tu negli anni Ottanta arrivavi a Casal di Principe, dalla superstrada e costeggiando lo stadio cercavi di entrare nel paese, venivi fermato dalle pattuglie armate della Camorra. Pattuglie armate che a bordo di grosse motociclette, comportando a fianco dei mitra dei Kalashnikov, ti chiedevano dove andavi, che cosa facevi, chiedi. Se arrivavi in moto e avevi il casco, ti facevano togliere il casco. Si racconta che a quei tempi fossero in grado di risalire dalla targa, a quei tempi non c'erano i telefonini, ricordiamocelo, fossero in grado di risalire immediatamente dalla targa ai proprietari delle auto e se qualcuno non lo conoscevano perché sfuggiva al loro controllo, lo seguivano. Ma non era solo il controllo militare che avevano, avevano il controllo dell'economia, cioè non si faceva nulla se non era autorizzato dal clan. Avevano il controllo materiale della città. Il controllo del territorio delle persone, avevano in mano la vita delle persone. Esatto, quelle tre cittadine... ...quale poteva essere anche il futuro delle famiglie del posto. Già sapevano chi doveva forse essere la parte... Il colletto bianco della camorra e chi invece doveva essere manovalanza. Quindi stabilire già i ruoli delle persone del territorio, visto che c'era questo controllo così forte di chi entrava, di chi usciva, e sicuramente delle famiglie del territorio. Il controllo era assoluto. E c'era un controllo che non riguardava la vita quotidiana, ma riguardava le prospettive. Ci sono stralci di dichiarazioni dei pentiti che addirittura parlano di pentiti che si sono seduti ai tavoli di laurea di ragazzi di Casal di Principe. Non sto facendo una battuta o propalando una fake news. Quindi il controllo era assoluto. Era uno Stato nello Stato. Per capirlo bisogna pensare all'ISIS che in questi anni si è formata tra Iraq e Siria. Quindi all'interno di uno Stato, l'Italia, all'interno di una regione, di una provincia, c'erano tre cittadine, Casal di Principe, Casapesino e San Cipriano d'Aversa, che rappresentavano uno Stato nello Stato. Un buco nero da cui è stata condizionata la vita dell'Italia per molti anni. Non dimentichiamo che sono stati i casalesi, insieme con la massoneria, con la P2, a inventare l'emergenza rifiuti, l'emergenza rifiuti che esiste ancora oggi nel nostro paese. E tantissime altre cose, cioè interi quartieri ad Aberdeen, in Scozia, città turistiche sulla costa dell'Andalusia, in Spagna, centri commerciali e quartieri residenziali, a Pitesti e in altre città della Romania. Questo per dire solo quello di cui si sa. Senti, parlavi del tentativo, diciamo, di sminuire l'importanza della morte di Don Peppe Diana e di farlo passare come un omicidio, un delitto passionale, piuttosto che un omicidio di camorra, no? Perché di Don Peppe Diana tanto si è parlato, ecco, anche i giornali della città, che comunque hanno messo in dubbio quella che poteva essere l'integrità di Don Peppe, sia rispetto alle donne, alle pazzocchiane, che poi anche come addirittura custode delle armi della camorra. Questa è stata la più grande fake news. Quando hai parlato di fake news, di testate giornalistiche casertane, ti facevi riferimento comunque a questa proposta, cioè queste notizie miravano comunque a sminuire la figura di Don Peppe Diana. Sì, come faceva la mafia. Ho un affiliato della Camorra o addirittura un seduttore. Sì, come faceva la mafia, come ho accennato. In realtà la strategia, noi non dobbiamo dimenticare che il clan di Casaldi Principe, il clan dei Casalesi, rifondato da Bardellino alla fine degli anni 70, ma che esiste da tempo immemorabile, non dimentichiamo che il fascismo provò a distruggere la mafia, così come provò a distruggere la camorra dei Mazzoni negli anni 30, come mandò il prefetto Mori, il colonnello Mori, in Sicilia, che poi diventò il prefetto Mori, che si scontrò con la mafia, Mussolini mandò, nell'unico altro posto d'Italia, per combattere una criminalità organizzata, una mafia territoriale, mandò il maggiore Anceschi dei Carabinieri a Casal di Principe, in provincia di Caserta, per sconfiggere la mafia dei Mazzoni. Quindi la preesistenza di una consorteria criminale di grande peso, più importante da sempre di quella napoletana, c'è sempre stata in provincia di Caserta, in particolare nel lago Aversano, nel lago dei Mazzoni, e come è definito ancora oggi la terra che ci dona la più buona mozzarella del mondo, la più buona mozzarella di bufale del mondo. Ora, alla fine degli anni 70, Bardellino rifonda il clan dei Casalesi e per rifondarlo, tra le varie cose, lo associa alla mafia. Il clan dei Casalesi, insieme con il clan di Nuvoletta di Marano, è l'unico grande clan campano, insieme con quello di Nuvoletta, e bisogna notare questa cosa, perché i Nuvoletta sono quelli che hanno ucciso Giancarlo Siani, mentre invece i Casalesi ammazzano Don Peppe Diana. Quindi gli unici due omicidi politici di peso effettuati da clan della Camorra in Campania sono collegati ai clan che sono legati alla mafia. Bardellino era punciuto ed era punciuto con i Corlionesi. Questa è una cosa, quindi, che non bisogna mai dimenticare. Cioè, Bardellino era vicino ed era informato e seguiva anche gli insegnamenti dei Corlionesi, prima dell'altra fazione, quella di Bontate, poi quella dei Corlionesi. Quindi, questa è una caratteristica strutturale dei Casalesi. Per questo, loro cercano di distruggere la memoria e anche di sminuire l'importanza di quello che aveva fatto Don Diana. Noi dobbiamo tenere presente che Don Diana non è solo il documento per amore del mio popolo che viene pubblicato alla notte di Natale del 1993 e diffuso nelle parrocchie e letto nelle parrocchie della Forania di Casal di Principe. Ma è anche, ancora di più, un documento durissimo del luglio del 1991. Il 21 luglio del 1991 viene ammazzato Angelo Riccardo per errore, per sbaglio dalla Camorra. C'è uno scontro a fuoco fra le due fazioni, quella di quella vincente di Sandocan e quella perdente di Gigilu Cucchiere Luigi Venosa legato a Edefalco. Questo scontro a fuoco avviene nella piazza di San Cipriano d'Aversa di fronte alla parrocchia e intorno alle 4 del pomeriggio 4 4 e mezza del pomeriggio e in quel momento mentre i due clan le due fazioni si scontravano come nel west cioè si sparava all'aria la gente si nascondeva sotto le macchine nel bar cercava di scappare via o si sdraiava si sdraiava per terra passa questa reno 4 guidata da Angelo Riccardo e da altri amici che tornavano da Bayonomizia dal mare perché Angelo doveva andare alla sua missa e e Angelo rimane in mezzo a questo fuoco e muore un altro un altro ragazzo rimane ferito. Angelo Riccardo non era cattolico era un ragazzo della comunità dei testimoni di Geova e quando Don Peppe Diano lo viene a sapere avvertito dall'edicolante di San Cipriano d'Aversa che era anche l'animatore di una comunità cattolica di base Don Peppe dice a chi lo chiamava no è vero bisogna fare qualcosa non si può rimanere fermi così era il 1991 luglio del 1991 una settimana una settimana dopo Don Peppe Diano insieme con Raffaele Sardo con l'animatore della comunità di base La Roccia cattolica di Aversa e con il parroco di San Cipriano in una visione così terra terra dei camorristi allora dissero i stessi camorristi ma che se ne importa il prete di un testimone di Geova e invece Don Diana fece questo violentissimo documento stupendo basta la dittatura armata della camorra ciclo stilato che fu distribuito nelle chiese per strada e lui lesse in parrocchia ecco quel basta la dittatura armata della camorra nel luglio del 91 il 28 luglio del 91 è l'inizio del cammino pubblico di Don Peppe Diana contro la camorra non a caso a settembre per la prima volta il comune di Casal di Principe fu sciolto e Don Diana da quel volantino in poi è stato interrogato oggetto di attacchi chiamato dai carabinieri chiamato dalla procura perché quella sua presa di posizione pubblica si scontrava con tutta la tradizione di silenzio assoluto di faida un po' d'andrangheta un po' da cosa nostra che si viveva a Casal di Principe ancora più forte perché la capitale di Gomorra è sempre stata Casale un personaggio scomodo un personaggio scomodo che voleva sottrarre i ragazzi dalla rete della camorra questo è stato il motivo per cui è stato ucciso perché poi il vero motivo qual è? si sono dette cose diverse faceva parte comunque di un'altra fazione del clan camorristico importunava le donne dava fastidio ai bambini aveva aveva fatto il funerale di un camorrista e si era rifiutato di celebrare il funerale di un altro camorrista se ne sono dette tante tu poi Luigi diciamo hai seguito il processo queste informazioni le hai acquisite perché è presente al dibattimento al processo insomma come sei in possesso di tante informazioni sicuramente sarai uno studioso insomma ma la tua fonte primaria qual è? allora innanzitutto tutte quelle che ci hai dato prima erano tutte stupidaggini invenzioni della difesa per delegittimare Don Diana perché Don Diana ormai si era capito pesava più da morto che da vivo e quindi cercarono in tutti i modi di delegittimarlo e di schiacciare di nascondere e distruggere la sua memoria questo però non è avvenuto perché ci sono state delle persone che ne hanno difesa e tutelato la memoria e alla fine i processi la sentenza della castazione ha fatto giustizia dell'incredibile impegno e della figura di grande fulgore di questa persona che cioè ha dato tutto pur sapendo che rischiava tutto per la sua terra e per la sua gente perché non si poteva andare più avanti non si poteva vedere cadere i giovani un giorno sì un giorno no ci sono stati anni in cui a casa di principe nella zona di casa di principe sono morte 180-186 persone cioè uno ogni due giorni uno ogni giorno e mezzo una cosa incredibile tu mi chiedevi le fonti allora la fonte primaria ovviamente sono tutti quanti gli atti tutti quanti gli atti gli allegati del processo un processo immenso che è arrivato fino al grado massimo quello della cassazione ma oltre quello ci sono le testimonianze dirette delle persone io da anni frequento casa di principe perché quando ero dirigente nazionale dell'UXI l'associazione della stampa cattolica decisi di portare la scuola nazionale di giornalismo investigativo da Roma a casa di principe perché a Roma si fanno tante cose ma sono per lo più inutili servono più come trofeo per i giornalisti che li organizzano o per chi li organizza in generale perché sei nella capitale nella città del potere piuttosto che per i cittadini per le persone davvero e quindi c'era questa scuola che si faceva a Roma e quindi decidemmo di portarla a casa di principe cioè di fare le cose dove realmente servono anche perché di casa di principe di casa di senna di san cipriano d'aversa spesso si parla a sproposito si parla da lontano così fanno anche tanti autorevoli colleghi che non ci sono mai stati non sono mai venuti non hanno mai toccato con occhi e guardato con mano quello che realmente è questa realtà e l'hanno raccontata per stereotipi quindi la risposta è le fonti assolute quelle autentiche e le testimonianze delle persone che hanno vissuto da almeno sei anni io in qualche modo vivo un mese all'anno lì a Casale e poi nello stesso tempo sono in contatto per tutto l'anno con le persone quindi ho avuto modo di approfondire la famiglia dondiana il padre la madre le persone che hanno avuto a che fare anche persone coinvolte direttamente da un punto di vista giudiziario nella nella faccenda tanto è vero che io non ho scritto solo un libro non pepe diana nella caduta di Gomorra ma ho realizzato anche un documentario sul tema che è un documentario come dire che ha portato via molto tempo a tv 2000 per la produzione c'è in curiositi che cosa vai a fare un mese all'anno a Casale di Principe qual è la tua attività formazione o partecipazione a qualche associazione di volontariato per quale motivo vai un mese all'anno a Casale di Principe non è che vivo lì fisso però praticamente ci sto praticamente per un periodo cioè allora la scuola nazionale di giornalismo investigativo è praticamente una summer school una scuola estiva in cui i maggiori giornalisti italiani magistrati responsabili delle forze dell'ordine italiani e stranieri vengono a Casale di Principe riconosciuta come la più importante manifestazione la più importante attività formativa del genere in Italia sul giornalismo investigativo io sono il direttore e praticamente quindi per organizzarla insieme con Agro Rinasce e con Gianni Allucci ma anche con la presenza fissa del sindaco Renato Natale che non si perde un'occasione e negli anni anche con la presenza di tanta gente di Casale di Principe che sono aumentati prima non veniva nessuno neanche i giornalisti del territorio venivano adesso un po' alla volta vengono e vengono giornalisti poi come studenti da tutta Italia che pagano per poter stare nel per poter partecipare no la scuola è gratuita pagano per poter essere ospitati noi non facciamo nello spirito dell'UXI che organizza la manifestazione ogni anno noi facciamo tutto per tutto diciamo nel segno del volontariato massima professionalità ma come dire al servizio della gente anche perché è lo spirito per cui ho portato la scuola lì cioè a Casale di Principe non solo è utile per i colleghi che vengono è utile anche per i relatori perché non ci sono mai stati nonostante va a vedere abbiano arrestato abbiano deciso su persone di Casale di Principe ma è utile anche per la gente del posto perché tu ti confronti con un mondo diverso che in qualche modo poi spesso ti giudica e dalla scuola di giornalismo investigativo è nato per esempio Transit un anno e mezzo fa il ciclo di animazione della biblioteca di Casale di Principe che è stato quello che ha permesso di portare ad esempio Eric De Luca a Casale di Principe non so se ne hai sentito parlare un po' di tempo fa oppure i finalisti non sapevo di questa scuola estiva di giornalismo a Casale di Principe in verità ignoravo proprio l'esistenza non ho mai letto niente in merito è grave perché comunque i giornali nazionali ne hanno parlato ma anche quelli locali non ho mai sentito informazioni in merito non ho mai letto informazioni in merito e me ne dispiaccio veramente però queste interviste questi incontri diciamo sono proprio utili alla diffusione dell'informazione e fare arrivare l'informazione lì dove non c'è altrimenti non avrebbe senso stare qui a parlare e quindi veramente mi hai dato una notizia molto interessante posso aggiungere una cosa un altro motivo per cui sto spesso lì ultimamente è che in qualche modo mi sento adottato quasi è che dalla scuola di giornalismo investigativo due anni fa praticamente alla fine del 2018 parlando con il dirigente dell'ufficio cultura del comune di Casale di Principe che è un giovane avvocato di Caserta e poi con il sindaco mi raccontarono della loro biblioteca che era appena nata con una storia incredibile la ragazzina Maria che aveva mandato la lettera al sindaco e che il presidente Mattarella ha fatto diventare da qualche giorno al Fiere della Repubblica un'iniziativa che in qualche modo è diventata pubblica di grande risonanza anche proprio grazie a Transit che cosa ci chiese il sindaco mi chiese come persona e poi io ho convolto il premio Buone Notizie che animo a Caserta che è uno dei tre premi di giornalismo più importanti in Italia di animare la biblioteca di Casale di Principe noi organizzammo questo ciclo che si chiamava Transit che è cominciato il 30 novembre del 2018 ed è andato avanti per tutto il 2019 come è cominciato? Facendo un appello un mio appello al Corriere della Sera a tutti gli intellettuali italiani a gli scrittori in particolare scrittori e scrittrici italiane a venire a Casale di Principe a loro spese perché il comune Casale di Principe non aveva i fondi per poterli invitare e così è accaduto il primo a rispondere fu Erri De Luca il 30 novembre arrivò Erri De Luca poi arrivò Federico Varese che viene considerato lo scello colmus contemporaneo il maggior criminologo internazionale che è un italiano ed è il preside della facoltà di scienze criminali di Oxford Federico Varese tant'è vero che poi ho avuto occasioni di capire come a Oxford per esempio si pensi che quando tu dici Casale di Principe automaticamente scatta Gomorra l'accostamento quando parli di Gomorra pensi che tutto ciò che è accaduto nella serie è accaduto nella fiction si è letto nel libro abbia come epicentro quelle tre cittadine della provincia di Caserta Casale di Principe Casavesenne e San Cipriano e nello stesso tempo io ho dovuto spiegare perché c'erano studenti dottorandi quindi laureati inglesi dottorandi in scienze criminali che volevano sapere come era potuto accadere questo in un paese come l'Italia che è una grande potenza economica anche più potente allora della Gran Bretagna e che io ho dovuto spiegare che quei tre paesini quelle tre cittadine erano un buco nero all'interno dell'Italia che hanno condizionato l'Italia nel totale silenzio ma questo è potuto accadere perché noi italiani noi casertani prima di tutto e poi noi italiani volgevamo la testa voltavamo la testa dall'altra parte noi praticamente ci siamo disinteressati totalmente specialmente chi quegli anni gli anni 80 gli anni 90 gli anni 90 li ha vissuti leggevamo sulle colonne del mattino il principale quotidiano sud degli articoli degli ammazzati dei morti ammazzati in provincia di Caserta ma poi tutto ciò finiva qua era una notizia che non andava mai oltre le cronache provinciali neanche le regionali conquistava il processo Spartacus la prima sentenza del processo Spartacus ha avuto pagine importanti in provincia di Caserta ma poi due colonne in edizione nazionale perché cioè il peso dei casalessi era tanto ed era tale non c'era disinteresse non era il disinteresse era che il loro peso era tale tanto che si evitava di raccontarli Luigi era tale e tanto era passato remoto oppure fu insomma diciamo così passato prossimo oppure è ancora presente questa voragine sul territorio si è spostata all'attenzione della camorra da alcuni interessi ad Austri parlavi prima giustamente della terra dei fuochi insomma dopo 26 anni dall'uccisione di Don Peppe Diana se vogliamo fare diciamo mettere un inizio dalla morte di Don Peppe Diana ad oggi è cambiato qualche cosa su quel territorio come è cambiato tantissimo allora la prima cosa che devi fare Enza insieme con Nando dovete farvi una passeggiata a Casal di Principe e toccare con occhi e guardare con mano la rivoluzione il miracolo di Don Peppe Diana Don Peppe non ha fatto da santo da martire miracoli a persone singole Don Peppe ha fatto un dono incredibile un miracolo collettivo alla sua terra e alla sua città da un lato lo Stato dopo l'uccisione di Don Diana ha attaccato in maniera violenta durissima i casalesi e ha sconfitto Gomorra almeno la parte militare di Gomorra non esiste più e ancora c'è ancora come racconta e come spiega Federico Cafiro de Rao il tesoro dei casalesi quello deve essere ancora come dire colpito ma è proprio quello che è accaduto a Casale che bisogna andare a guardare perché se no noi casertani non saremo mai padroni del nostro destino e della nostra terra nelle proprietà nei beni confiscati ai mafiosi di Casale di Principe ai camorristi agli uomini di Gomorra di Casale di Principe ci sono ristoranti cantine sociali cooperative sociali centri di riabilitazione ci sono panifici biscottifici c'è un c'è una cioccolateria ci sono tantissime attività sono il segno del cambiamento di una terra che ha ottenuto la libertà dalla morte di Dondiana e con il lavoro è riuscito a conquistarsi rimanendo lì anche la dignità e con l'arrivo della biblioteca e con le iniziative culturali anche l'arrivo della cultura perché poi senza lavoro non c'è la dignità non c'è la possibilità di avere la schiena dritta senza la cultura non c'è la possibilità di essere autonomi ma senza qualcuno che ti guida e che si molla per te è brutto da dire ma capita così non c'è neanche la possibilità di sperare di voler rivoltarsi ecco quella è una grandissima rivoluzione che è stata fatta e che bisogna andare a a cui bisogna andare a rendere omaggio bisogna fare un passaggio doveroso per chi crede ma anche per chi non crede alla tomba di Dondiana e poi bisogna andare in giro per tutte queste attività da Dulcis in fondo alla NCO ecco adesso hanno anche la capacità di prendere in giro i camorristi la NCO che è l'acronimo della nuova camorra organizzata di Cutolo adesso è diventato l'acronimo la figla della nuova del nuovo della nuova cucina organizzata il ristorante cooperativa sociale che impiega anche ex detenuti dove praticamente si mangia benissimo tra l'altro c'è un'ottima pizza e quindi adesso hanno anche la capacità di ridere della camorra prima quando si camminava negli anni 80 negli anni 90 ma anche negli anni 2000 senza problemi cioè la follia di Setola è poco prima della fine del primo decennio del ventunesimo secolo l'arresto di Zagari è stato poco dopo quindi avevamo già scavallato il primo decennio adesso hanno cominciato a beffeggiare i camorristi perché per esempio durante l'estate quando ci sono i campi organizzati da Libera o da altre associazioni tu vedi le magliette scritte con la scritta panza piena camorra vacante cioè con la pancia piena la camorra non c'è va via non ha forza di interdizione non può reclutare persone e quindi la camorra come stai raccontando sembra che è sparita è sparita o si è spostata in altri territori il litorale Domizio Capua Caserta io non ho detto che è sparita io ho detto che il clan così come organizzato con la sua potenza militare è stato sconfitto ed è più o più in galera adesso per esempio c'è stata una scarcerazione di Pasquale Zaccaria il fratello di di Michele Zaccaria la mente economica del clan a causa del covid che ha creato tutta una serie di polemiche a livello nazionale tant'è vero che adesso il ministro ha dovuto licenziare intronque il direttore del DAP perché con la scusa che bisognava salvaguardare possibili reclusi che avevano più di 70 anni dal virus sono stati scarcerati e mandati ai domiciliari una follia per i detenuti al 41 bis perché poi ci sono boss di indranghida boss di mafia e quindi è stato giustamente mandato a casa il direttore del DAP che aveva emanato quella quella circolare ma non solo è uscito Sergio Orsi il fratello di Michele Orsi che era stato ammazzonato per la crisi dei rifiuti quindi cioè bisogna tenere sempre la guardia alta quella struttura militare è stata sconfitta la potenza economica i rapporti con i colletti bianchi con le professioni che quella gente aveva non sono stati come dire intaccati più di tanto ecco è necessario che la magistratura vada ancora avanti e affondi bene all'interno di questi settori perché se non si interviene per eliminare completamente la milma che in qualche modo continua a essere presente in terra di lavoro noi non potremo mai dimostrare la forza che abbiamo così come effettivamente è non è un caso che l'altro giorno l'altra sera ai David di Donatello ci siano stati tanti gruppi italiani che abbiano tanti artisti casertani intellettuali casertani che abbiano ottenuto conferme prestigio e vittorie da parte di tutta Italia e che questa questi grandi intellettuali vengano proprio dalla provincia di Caserta sai qual è il rischio Luigi è che probabilmente la camorra il camorrista ha cambiato fisionomia non è più solo il killer spietato che armato faceva strage di persone contrarie faide rivendicazioni appropriazione di territori oppure appropriazione di commercio di droga di armi del territorio il rischio è quello che la camorra nel frattempo ha cambiato fisionomia e prima che noi riconosciamo la nuova fisionomia sai può passare del tempo ma ciò nonostante continua ad andare avanti quella che è l'attività camorristica delinquenziale di quella parte malata il cancro del nostro territorio posso intervenire per fare una chiarificazione i casalesi i comorra non sono la mia idea no 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 io sto facendo la parte diciamo del cittadino comune le persone che si possono fare delle domande molto semplici rispetto a temi e problemi molto grossi che appartengono al nostro territorio e condizionano fortemente il nostro sviluppo no no ma io è tutto giusto quello che dicevi solo che però è una questione come dire per inquadrare per questo volevo dare un'ulteriore delucidazione i casalesi i comorra non è mai stata solo barbari omicidi cioè anche quando ammazzavano si ammazzavano fra di loro tant'è vero che Caselta diceva si diceva si ammazzano fra di loro che ci importa invece ci doveva interessare perché a quell'epoca anche quando si ammazzavano fra di loro stringevano accordi con i migliori avvocati con i migliori professionisti commercialisti ingegneri casertani napoletani italiani e stranieri cioè non dimentichiamoci che il clan dei casalesi è stato fin dall'inizio una grande potenza economica cioè non lo è stato perché si è evoluto è nato come grande potenza economica allora proprio questa questa vicinanza alla mafia ci permette di capire perché erano così importanti e potenti Carlo Alberto dalla Chiesa nella sua ultima intervista prima di essere ammazzato a Giorgio Bocca dice che a suo parere la mafia che allora in quell'epoca alla fine degli anni 70 uccideva a più non posso non era più la mafia che veniva raccontata nelle sentenze dei giudici era già altro era nei supermercati era negli alberghi era nelle banche era a Milano era altrove e i casalesi quando rinascono con Bardellino nel giro di poco sono già quello che dalla Chiesa diceva per Cosa Nostra è chiaro? dalla terra all'imprenditoria diventano per fare un esempio per fare un esempio continuo negli esempi perché come dire noi non ce li ricordiamo ma fanno parte diciamo di quell'immenso archivio giudiziario che riguarda la provincia di Caserta che è un archivio di una vastità immensa che ci si rischia di perderci all'interno ci sono dei libri bellissimi come quello di Rosario Cavacchione sull'oro della Camorra che danno delle indicazioni sono una piccola bussola ma cioè bisogna metterne insieme tantissimi insieme con gli atti giudiziari per avere un quadro di insieme cioè il consorzio per la gestione del cemento in provincia di Caserta la provincia di Caserta produce oltre la metà del cemento di tutto il paese di tutta Italia il controllo del cemento è stato per anni per tantissimi anni della Camorra cioè era la Camorra erano i casalesi che decidevano il prezzo lo è stato lo è stato lo è stato non lo è più sì perché non ci sono più non c'è più l'apparato militare che permetteva se poi ci sono infiltrazioni all'interno di imprese vere, solide importanti anche internazionali questo non lo possiamo sapere questo è il lavoro che si deve fare usano le scatole cinesi lo sai per evitare i controlli usano il sistema delle scatole cinesi quindi è facile questa è un'idea che viene rimandata dai film però cioè poi realizzare realmente le scatole cinesi non è una cosa semplice bisogna avere dei professionisti di grandissimo valore ora cioè dire che delle imprese per questo le indagini sono così complesse sul denaro Giovanni Falcone diceva seguendo una regola americana che gli avevano insegnato l'SBA Luigi le indagini sono sulle attività seguire le attività a cui poi sono legati ovviamente queste grosse masse di denaro è vero tu parli di tracciabilità di queste grosse masse di denaro che passano da un'impresa all'altra io volevo sapere un poco meglio di questa del calcestruzzo il monopolio del calcestruzzo in provincia di Caserta in questa zona come può essere passata un'impresa così importante economicamente così forte dalle mani diciamo della camorra chi detiene o del consorzio mi hai parlato di un consorzio o del cemento armato non esiste più cioè è sparito non esiste più è stato sciolto è stato sciolto ho capito va bene ho capito scusami la domanda è un no no la questione la questione è importante cioè le domande sono giuste la questione è che ognuno di questi temi per ognuno di questi temi servirebbero ore eh lo so ho capito sì vabbè noi diamo no no vi ho interrotto perché se volete ogni tanto c'è qualche domandina che io riporto sotto e se potete potete leggerla e risponderla solo per questo ah ecco ah ecco questo è compito di Enza eh salirai e decidi tu di porre la domanda eventualmente ecco 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 ehm allora cosa davvero è rimasto secondo lei a Casal di Principe di Don Peppe Diana e per quanti lì a Casale è ancora un'ispirazione una figura ma penso che hai risposto no? hai già dato la risposta con queste attività che comunque sono nate a a Casale eh con la requisizione del delle proprietà del dei camorristi hai già dato una risposta con quello perché allora in tutta Italia ci sono beni confiscati l'agenzia nazionale dei beni confiscati ha tipo venticinquemila beni che sono stati confiscati però in realtà in tutta Italia i beni confiscati non vengono riutilizzati questo è il grande dramma dei beni sequestrati e confiscati che poi vengono utilizzati normalmente dopo la confisca perché significa che la proprietà è sottratta definitivamente all'organizzazione mafiosa eh la la novità assoluta di Casal di Principe rispetto al resto d'Italia è che tutti i beni che sono stati confiscati a Casal di Principe la maggior parte sono stati anche riutilizzati e sono stati riutilizzati in attività che producono denaro e sono profittevoli e danno un lavoro vero alle persone questa è la rivoluzione di Casal di Principe che bisogna tenere ben presente perché sennò poi non si riesce a fare la differenza con il resto del paese eh cioè il resto di nel resto d'Italia i beni confiscati ce ne sono dovunque ma ogni cento beni confiscati ogni cento beni confiscati ce n'è uno che viene riutilizzato invece a Casal di Principe la maggior parte sono stati sono stati riutilizzati e producono reddito reddito per le persone che ci lavorano allora i casalesi sono riunni delle zone citate la Casale è bene presente oggi sul territorio gli innesti tra Camorra e città di Casale San Cipriano Casa Pesena sono le parentele e gli incroci di famiglia in verità lo dà per scontato è che gli innesti tra la Camorra e la insomma tra la Camorra e la città di Casale tu riesci a leggere perché ovviamente no io non riesco a leggere per questo li devi leggere tu sì infatti dice che in effetti c'è ancora un innesto forte fra la Casale la San Cipriano la Casa Pesena bene diciamo le tracce della Camorra quando tu finisci allora diciamo è un po' l'evoluzione di cui parlavo io questa persona fa la domanda che ti avevo anticipato io dicendoti ma non è cambiata la faccia del della Camorra sul territorio non ha cambiato faccia per cui forse è più difficile riconoscerla penso che allora posso se tu quando finisci tu io quando finisci tu riparare io parlo allora no 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 tu va bene così allora la questione facciamo l'esempio della Sicilia o facciamo l'esempio della Calabria facciamo l'esempio di Reggio Calabria che conosco molto bene e di cui è più semplice parlare perché è lontano a Reggio Calabria funzionava anzi a Reggio Calabria funziona un po' come funzionava a Casale a Casapesenne e a San Cipriano durante un servizio un lungo reportage che ho fatto in Calabria in cui sono andato anche alla Madonna di Polsi in pieno astromonte la Madonna dell'Andrangheta la cosiddetta Madonna della Montagna rimanendo lì in zona come un normale cittadino a Reggio parlando con la giovane dipendente di un ristorante dove andavo spesso a cena e con cui avevo fatto amicizia la ragazza mi raccontò che lei sarebbe di lì a poco emigrata a Milano perché aveva il fidanzato a Milano e perché praticamente a Milano avrebbe trovato lavoro e voleva aprire un'attività con quello che aveva imparato a Reggio io gli chiesi perché non l'apri perché poi era bravissima a cucinare era una cuoca perché non l'apri qui a Reggio e mi disse no perché a Reggio servono i permissi le autorizzazioni ed è difficile e io fischio vabbè ma con la politica è sempre complicato specialmente a sud però poi se tu chiedi le autorizzazioni al massimo conosci qualcuno riesci ad ottenere la possibilità di aprire il tuo ristorantino la tua trattoria no no ma quella non è la politica il problema perché no il permesso non me lo deve dare la politica e chi te lo deve dare il permesso glielo doveva dare il boss perché a Reggio per poter aprire un ristorante nel proprio quartiere o in un altro quartiere bisogna avere il permesso dell'andrina che decide cosa apre e cosa non apre che decide addirittura cioè per attintare un palazzo bisogna rivolgersi alla ditta autorizzata dall'andrina a lavorare in quel quartiere se tu ti rivolgi un'altra ditta l'altra ditta da fuori non viene questo è ancora oggi quello che accade a Reggio Calabria ma accade anche dalle parti nostre è proprio di questo inverno scorso la proiezione del film il sindaco del rione sanità però permettimi permettimi quel compito addirittura doveva decidere lui se bisognava vendicarsi di qualcuno che ti aveva fatto uno sgarbo oppure no no permettimi però scusami Enza Enza scusami il sindaco di rione sanità racconta di un mito cioè queste cose comunque una situazione sì però è un mito che è riferito a Napoli non è riferito a Casale e che poteva essere vero in un altro momento storico o può essere vero in una certa zona di Napoli che ne so il Conocal cioè quando diciamo queste cose non bisogna assimilare il mito cinese